Iniziamo con questo dibattito di un discorso di peli che l'ha scritto 2461 anni fa, quindi io inizio con quello che diceva Pericle sul discorso sulla democrazia, il discorso che fece gli Ateniesi nel 461 a.C. Qui ad Atene noi facciamo così, qui il nostro governo favolisce i molti invece dei pochi e per questo viene chiamato democrazia, qui ad Atene noi facciamo così. Quindi noi non dovremmo chiamarci democrazia, visto che facciamo tutt'altro, loro non favoriscono i pochi, a noi si favoriscono i pochi, se questo è il condizio sine qua non, vorremmo trovare un altro appellativo. Le leggi qui assicurano una giustizia uguale per tutti nelle loro dispute private, ma noi non ignoriamo mai i meriti dell'eccellenza. quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, ma non come un atto di privilegio, come una ricompensa al merito e la povertà non costituisce un impedimento. Qui ad Atene noi facciamo così. Sembra quasi un gioco di positivo e negativo, no? Tutto quello che pericredisce e che dovrebbe essere il modo giusto retto di condurre una società, le regole che una società democratica, equa, giusta si dà, in qualche modo noi dovremmo ribaltarlo, perché purtroppo non abbiamo i meriti dell'eccellenza che non vengono ignorati, non vengono ignorati. La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana. Noi non siamo sospettosi l'uno dell'altro e non infastidiamo mai il nostro prossimo se al nostro prossimo piace vivere a modo suo. Noi siamo liberi, liberi di vivere proprio come ci piace e tuttavia siamo sempre pronti a affronteggiare qualsiasi pericolo. Un cittadino atenese non trascura i pubblici affari quando attende alle proprie faccende private, ma soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere le sue questioni private. Qui ad Atene noi facciamo così. Qui continua ad esserci questa descrizione di una società ideale in qualche modo. se ad Atene loro facevano così nel 461 a.C. quando la nostra civiltà muoveva i primi passi, perché quella era la pulla della nostra civiltà, della nostra cultura, forse ci siamo persi dopo la strada. perché sono tutte belle queste frasi di Pericle nel 461 a.C., anche l'ultima. non si occupa dei pubblici affari per risolvere le sue questioni private, noi da quanti anni è diventato prima una sorta di accusa che si faceva, l'uso privatistico della cosa pubblica quando io lavoravo in Rai, al tempo se ne parlava molto, adesso non se ne parla nemmeno più perché forse non c'è più la mia notizia. Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati e ci è stato insegnato anche di rispettare le leggi e di non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa. E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che risiedono nell'universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che è buonsenso. Qui ad Atene noi facciamo così. Ecco qui io credo che sia proprio la base della nostra civiltà, io penso ad Antigone quando sento queste parole di Pericle, la legge naturale, quella che è scritta nel cuore di ciascuno di noi e che fa dire ad Antigone, caro zio io le tue leggi non le posso rispettare perché vanno contro una legge che è più forte che è scritta nel mio cuore e per questo io vado a seppellire mio fratello. Ecco questa è un qualche cosa che oggi entra quasi in conflitto con il nostro modo di vedere e questo dà veramente molto da pensare. A me invece piace perché penso che sia veramente la natura dell'uomo questo. L'uomo che non ha bisogno di uno Stato che gli riconosce la diventata di essere umano, che gli riconosce dei diritti perché li ha profondamente iscritti nel suo DNA, nel suo essere umano e quindi ha bisogno soltanto che nessuno li calpesti questi diritti. Un uomo che non si interessa allo Stato noi non lo consideriamo innocuo ma inutile e benché i pochi siano in grado di dare vita a una politica ben tutti qui ad Atene siamo in grado di giudicarla. Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia. Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà ma la libertà sia solo il frutto del valore. Insomma io proclamo che Atene è la scuola dell'Ellade e che ogni Atenese cresce sviluppando in sé una felice versatilità, la fiducia in se stesso, la prontezza a fronteggiare qualsiasi situazione ed è per questo che la nostra città è aperta al mondo e noi non cacciamo mai uno straniero. Qui ad Atene noi facciamo così. Ecco che tutti siano in grado ad Atene di giudicare la vita politica anche se non ci partecipano in prima persona è una cosa straordinaria e mi piacerebbe poter chiedere a Pericle come avete ottenuto questo risultato perché oggi non solo è difficile trovare persone che abbiano voglia di partecipare alla vita politica ma è anche difficile trovare persone che ti dicano che capiscono questa vita politica. Io non credo che sia tutto nel fatto di come viene agita la vita politica, credo che sia un po' più complesso. Io credo che noi abbiamo una obiettiva difficoltà a creare e a formare una pubblica opinione tant'è che spesso abbiamo riflettuto su questo problema, io penso per esempio a Napoleone Colaiani, una persona che mi allontana culturalmente ma che ha ragionato secondo me con molta onestà intellettuale sul fatto che noi in Italia non abbiamo degli intellettuali e la carenza di intellettuali è uno dei punti di volta per cui noi non abbiamo né una informazione importante né una pubblica opinione informata e formata. Così come è molto bello Pericle riconosce che una società così aperta, libera, informata con una identità non ha paura dell'altro, non ha paura dello straniero, non ha paura di accogliere ma non perché si è in qualche modo anacquata come vorremmo fare oggi, non perché ha cancellato la propria identità ma proprio perché ha un'identità chiara, libera, non ha paura di confrontarsi con un diverso e quest'Italia, un'Italia che c'è anche se viene zittita o risa o insultata, guai a chi me la tocca, guai a chi me la ruba, guai a chi me la invade, Oriana Fallaci. Mi scusi onorevole ma questa frase non va in conflitto con quello che diceva Oriana Fallaci perché Pericle dice noi conclude, noi non cacciamo mai uno straniero, invece Oriana Fallaci conclude quest'Italia o l'Italia che se anche viene zittita o risa o insultata, guai a chi me la tocca, guai a chi me la ruba, guai a chi me la invade. Se io accolgo una persona straniera che viene educatamente in casa mia, non mi sta invadendo. Oriana è una persona aperta, una persona che aveva girato il mondo, una persona che aveva amato le altre culture ed era una persona aperta con un forte radicamento nella sua tradizione, nella sua cultura e per questo aperta al confronto e all'incontro. Ma una cosa è l'incontro e una cosa è l'invasione. Sono delle cose completamente diverse. Quando nel 2004 mi trovavo alla Camera dei Deputati ho avuto la fortuna di intervistare il Presidente Silvio Berlusconi. Presidente, vorrei farmi una domanda, adesso la faccio anche a te, però ovviamente mi rivolgo a tutti coloro che sono dietro di lei e che rischiano la vita tutti i giorni e che sono la sua scorsa e vorrei fare una premessa prima di fare la domanda. Questa è una frase che ho scritta io e che ovviamente ho impiegato più di trent'anni prima di elaborarla in questa fase finale. La frase è questa. La gloria appartiene all'uomo che sta normalmente nell'arena, la cui faccia è coperta di polvere, sudore, sangue. Chi si sforza valorosamente, chi erra e velocemente torna, chi conosce il grande entusiasmo, la grande emozione e spende sempre se stesso nelle cause lodevoli, chi al meglio fallisce, fallisce mentre sta usando per la grandiosità in modo tale che il suo posto non sarà mai tra quelle anime che, fredde e timide, non conoscono vittorie né sconfitte. A me ci vogliono trent'anni per capirla questa frase. La scrive e me la spedisca così ci rifletto perché è così impossibile. Avrei risposto così. Chi ha risposto lui? La prossima volta ci sfideremo sui giornetti di Dante. Così ha risposto? È un grande. Così ha risposto.